buonasera a tutti ragazzi e bentornati al canale b world 2.3 scusate per l'ultimo video è stato caricato in ritardo a causa che mi è mancato internet e ancora continua purtroppo quindi mi sa che il video arriverà lento quando dovrò caricarlo innanzitutto su che cosa parlerò info sul sapere la serie che parleremo ecco cos'è realmente l'ufo a forma di boomerang è stato presentato il 3 dicembre esatto un prototipo militare ma adesso andiamo a vedere gli ulteriori dettagli d'accordo quindi vi auguro una buona visione recentemente avevo parlato di un articolo di una bambina che era nata con una coda giusto e non è stato affatto carino deriderla ma invece qui parliamo dell'identità che finalmente è stata scoperta che cosa è realmente l'ufo a forma di boomerang esatto ed è stato presentato una settimana fa il 3 dicembre e avete presente quegli avvistamenti giusto la di ufo di forme bizzarre ma non è detto che sia per forza navicelle di altri mondi possono essere prototipi militari insomma va tipo questa foto vero è sfocata si vede un oggetto a forma di boomerang e questo un po più chiara la vediamo attraverso le nuvole e si vede che è un velivolo ma cosa è qua ancora più chiara si vede si vede ben noto e qua invece vicino a un aereo di linea normale quindi l'identità di questo prototipo militare è il b21 riders visto anche qua nella coda del traffico è stato visto questo aereo e finalmente sappiamo un'identità di un ufo di questo genere di forma e le altre ancora restano non identificati questo è mi piace il b21 riders il nuovo aereo stealt ecco qua raga visto avevo fatto diciamo una mappa concettuale su quello che avevo fatto giusto tipo delle sfere tra il 1941 e il 1944 oppure il classico no disco volante è quello del 47 43 un altro tipo allora il 1947 anche quello ufo a forma di ciambella anche questo un altro disco volante di adamski ufo a forma di sigaro ovale diamante triangolare boomerang e tic tac e di questo andremo a parlare di questa forma qua il boomerang esatto ed ecco qual è l'identità un prototipo militare chiamato b21 riders e adesso andiamo su google e vediamo quali erano le fondi di cui trattavano questo prototipo militare ecco qua raga questo è il prototipo militare il b21 rider eccolo qua il no troop gommar b21 rider è un bombardiere pesante in fase di sviluppo da parte della no troop vabbè va adesso leggiamo su wikipedia comunque guardate il costo di questo prototipo è 700 biliardi di dollari e entrerà in servizio entro il 2025 2030 quindi ancora è un prototipo non è che ce ne sono così tanti però l'hanno mostrato e adesso andiamo su wikipedia il no troop groomer b21 rider è un bombardiere pesante in fase di sviluppo da una parte della no troop groomer facendo parte del programma long race strike boom bomber letteralmente bombardiere d'attacco a lungo raggio sarà un bombardiere strategico a lungo raggio per l'aeronautica degli stati uniti in grado di portare armi convenzionali termonucleari si prevede che il bombardiere entri in servizio entro il 2026 o il 27 e si affianca alle flotte già esistenti di rockweller lancer no troop in servizio negli stati uniti per poi sostituire questi stessi bombardieri lo sviluppo luglio 2014 in via inizio dall'air force costituivo nell'acquistare un minimo di 80-100 aeromobili da un costo di 100 no scusatemi 550 milioni per unità 2010 prevede di avere in servizio da 175 a 200 al termine del programma il contratto di sviluppo è stato assegnato alla nautrop gruman dell'ottobre 2015 un rapporto dei media afferma che il bombardiere potrebbe essere utilizzato anche come una piattaforma per la raccolta di dati di intelligence un centro di comando aereo o di intercettore nel corso del 2016 air workforce symposium è stato formato designato b21 per distinguere l'aereo come il primo bombardier del ventunesimo secolo l'allora ministro dell'aeronautica Deborah Lee James ha dichiarato che il b21 inteso come una piattaforma d'attacco di precisione globale di quinta generazione che darà agli stati uniti la capacità di colpire a partire da una rete di sensori secondo i concetti di network centric warfare o guerra digitale mantenendo così per me agli obiettivi nemici a rischio di attacco il capo del global strike comando d'attacco globale della US air force crede che 100 bombardieri b21 saranno il minimo ordinato e prevede circa 175-200 bombardieri in servizio due studi interni della USA air force suggeriscono che l'air force potrebbe aumentare i suoi ordini d'acquisto di b21 da 80 a 100 ben 145 velivoli la capacità operativa iniziale e lo stadio operativo minimo richiesto dovrebbe essere raggiunto entro il 2030 A marzo 2016 l'aeronautica militare degli Stati Uniti d'America ha annunciato sette fornitori di primo livello per il programma tra cui Pratt e Rhythm System di Nausio New Ampsphere Spirit Aerosystems di Visita Kansas Orbital di Clifford, Utah, Dynton, Oyo, Rockville, Collins, De Cedar Rapids Lua Aerospace, Lewis Missouri, Genic Industries di Cedro Woolley, Washington Il direttore del programma F35, Chris Bodgan ha dichiarato che avere i motori in comune con il B21 dovrebbe ridurre il costo del motore Il B21 sarà progettato fino all'inizio secondo i criteri dell'Open System Architettura architettura di sistema operata con un sistema di processo distribuito e nell'aprile 2016 è stato riferito che il Global Strike Command dell'aeronautica degli Stati Uniti d'America il numero richiesto aumentasse minimo su 100 B21 quindi 100 jet di questo tipo di modello avete capito? poi a luglio del 2016 la reunatica militare degli Stati Uniti d'America ha dichiarato che non avrebbero esonato il costo stimato per il contratto B21 con la Notron Grumman sostenendo che la pubblicazione dei costi avrebbero rilevato ai potenziali avversari troppe informazioni su questo progetto classificato e avete visto? altro che alieni misteriosi avvistamenti oggetti potrebbero trattarsi di prototipi militari e per questo vengono nascosti perché altrimenti l'avversario di altre potenze straniere ad esempio come la Russia o la Cina potrebbe rubarti l'idea del progetto ecco il motivo perché resta top secret comunque continuiamo anche la Unit State Senate Committee of Armed Services Comitato del Senato degli Stati Uniti d'America per i servizi alle forze armate ha votato approvando la decisione di non rendere pubblici i costi del programma limitando le informazioni alle sole commissioni di difesa del congresso in risposta alle obiezioni di un gruppo bipartisan di legislatori guidato dal presidente della commissione il senatore John McCain dell'Arizona le modifiche proposte del senatore McCain alla legge sull'autorizzazione alla difesa nazionale per l'anno fiscale 2015 avrebbero ridotto l'autorizzazione per il programma B21 di 302 milioni di dollari a causa di un valore aggiunto di cazione contrattuale inferiore al previsto mentre al contempo richiede rigorose soglie di controllo dei costi rapporti strali sulle prestazioni del programma e divulgazione del valore di aggiudicazione del contratto totale di sviluppo e ingegneristico e manifatturiero poi il 19 settembre 2016 il B21 è stato ufficiale denominato Raider in onore del Dolintol Raider i partecipanti all'incursione aerea su Tokyo del 18 aprile 1942 conosciuto anche come Raider del Dolintol l'ultimo dei Dolintol Raider ancora in vita il tenente colonnello in pensione Richard era presente alla cerimonia di denominazione alla conferenza dell'Air Force Association l'associazione dell'aeronautica militare significa l'ufficio contabilità del governo degli Stati Uniti d'America ha pubblicato un rapporto il 25 ottobre 2016 che ha sostenuto la decisione dell'Air Force di assegnare il contratto alla Nutrop Grumman è stato rivelato che il fattore decisivo della scelta della Nutrop Grumman rispetto al team Boeing, Loki e DeMartin è stato il costo inoltre è stato dichiarato che l'Air Force ha un programma di acquisire un nuovo caccia a lungo raggio che dovrebbe scortare il B21 Raider in profondità del territorio nemico questo nuovo aereo di cui sono noti pochi dettagli potrebbe il bombardiere per sfuggire alle difese aeree nemiche il caccia come Pre-Tring Counter Oppositore aereo è stato ufficialmente rilevato durante la conferenza annuale 2016 dell'Aeronautica Militare è stato inoltre annunciato che è incorso un programma completamente quello del B21 per lo sviluppo di un nuovo elivolo Stealth per rifornimento in volo Stealth Tanker per futura missione di rifornimento che verrà chiamato KCZ l'assemblaggio finale del B21 dovrebbe svolgersi presso l'Air Force Plant 42 degli Stati Uniti in California presso la stessa struttura analizzata negli anni 80 e 90 per la produzione del Nautrop B2 la Nautrop Grumman ha ricevuto una modifica del contratto di 35,8 milioni di dollari per un grande impianto di rivestimenti Stealth che sarà completato nel 2019 i giornalisti che visitavano l'Air Force Plant 42 hanno riferito che ufficialmente la Nautrop non ha teva che intendesse produrre il B21 in quell'impianto mentre i funzionari presenti stanno tutti ammiccando e annuendo al riguardo ok adesso leggiamo la fonte dell'articolo in cui è stato presentato e poi forse tipo questa fonte qua gli Stati Uniti d'America presentano lo Stealth B21 il bombardiere nucleare sviluppato in gran segreto negli ultimi sette anni il Pentagon ha presentato ieri il nuovo bombardiere nucleare Stealth B21 Raider che il contractor Nautrop Grumman ha sviluppato in gran segreto negli ultimi sette anni e che sostituirà gradualmente i primi aerei della guerra fredda attorno al 2040 in una cerimonia organizzata all'interno dell'Air Force Plan 42 uno stabilimento di massima sicurezza della multinazionale ma di proprietà del governo americano a Palmdale a nord di Los Angeles i vertici militari e di Nautrop hanno mostrato per la prima volta al pubblico il bombardiere del futuro il primo realizzato dagli Stati Uniti in oltre 30 anni dopo il passaggio in cielo dei tre bombardieri ancora in servizio il B-52 Stratoff Retreats e il B-1 Lancer e il B-2 Sprint dall'hangar è uscito un pipistrello grigio e affussolato matricola 00001 coperto da un telone illuminato da luci laser blu e accompagnato da una colonna sonora cinematografica non è soltanto un nuovo aeroplano ha spiegato il segretario alla difesa incarna la determinazione americana a difendere la repubblica che tutti amiamo il B-21 Raider è dedicato al Dolintol Raiders i 16 bombardiere capitanti del tenente colonnello Jimmy Dolintol che condussero l'incursione aerea su Tokyo il 18 aprile 1942 vabbè questo l'avevamo letto su wikipedia per assiste ai piloti in missione lo spazio aereo nemico per uscendo distanza degli Stati Uniti potrà volare ovunque nel mondo ed essere impiegato ad esempio nel contesto Indo-Pacifico il B-21 sembra imponente ma ciò che c'è sotto il telaio di rivestimenti è ancora più impressionante affermata Austin spiegando che il velivo è un simbolo che rafforza la capacità del tenente dell'America anche i sistemi di difesa aerea più sofisticati faticheranno a rivelare nei cieli ha specificato il capo del Pentagono 50 anni di progressi della tecnologia a basso osservare tal sono confluiti in questo aereo l'aereo ha proseguito Austin potrà trasportarsi armi nucleari che convenzionali ed è stato costruito per un'architettura di sistema aperta che consente cioè di incorporare nuove armi che non sono ancora state inventate in pratica ha chiarito che Tim Ward amministratrice della legata di Nothrop Grumman sia apprendendo tecnologia dal futuro per portarla qui e ora in questo aeroplano il programma che resta altamente classificato dovrebbe costare almeno 80 miliardi con l'aereo nautica sanuitense che ha in programma l'acquisto di un centinaio di velivoli a circa 700 milioni di dollari l'uno ha il progetto lavorare circa 8.000 persone e 400 fornitori disclocati in 40 stati americani il primo volo è previsto per il prossimo anno e in futuro il B-21 di cui per ora esistono 6 prototipi in fase di prova al suolo potrebbe anche essere guidato dal remoto una testimonianza detto il segretario alla difesa dei vantaggi duraturi dell'america in termini ingegno a innovazione ok ragazzi abbiamo letto qua ma prima di concludere vi mostro un altro velivolo anche se ancora non è stata confermata ufficialmente la sua esistenza si tratta dell'UFO triangolare il TR-3B Black Manda eh esiste un altro velivolo il TR-3B Black Manda che sarebbero gli UFO dalla forma triangolare ma questo ne parleremo in un prossimo video anche ancora che questo aereo non è stata ufficialmente confermata la sua esistenza beh ragazzi spero tanto che questo video vende di info sul sapere ecco cos'è realmente l'UFO a forma di Boomerang vi sia piaciuto iscrivetevi al mio canale mi raccomando e tu un bel like e noi ci sentiamo alla prossima ciao